Partiamo da una considerazione, vittoria meritata, penso che lo avete dimostrato che questa vittoria la volevate, anche sui dischi vaganti, sui contrasti arrivavate sempre prima degli altri. Sì, è stata una partita molto dura, volevamo vincere, è la prima partita del 2023, sicuramente abbiamo iniziato bene, secondo me sono stati dei buoni tempi, alla fine abbiamo un po' sofferto, ma abbiamo sofferto insieme, fa parte dell'Hockey e siamo riusciti a portarla a casa. Ho visto però grande attenzione dietro, a parte gli ultimi minuti, la seconda parte del terzo tempo, prima avete rischiato veramente poco, segno anche che comunque mentalmente l'avevate preparata bene e con grande concentrazione. Sì, sicuramente, ci siamo allenati apposta, volevamo aggiustare un attimo magari alcune piccole cose, in difesa abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche in attacco, siamo riusciti a fare dei bei gol e è questo che volevamo, alla fine abbiamo rischiato di prendere gol, ma anche lì il portiere e la difesa ci hanno aiutato molto e siamo riusciti a portarla a casa. Hai detto una cosa, secondo me giusta, infatti mi hai anticipato un po' la domanda che ti volevo fare perché a volte c'è l'impressione che davvero manchi poco, proprio i particolari e le piccole cose, ti chiedo dove la squadra può migliorare curando questi particolari per fare un po' un salto di qualità? Ma secondo me le cose più importanti, diciamo, tenere il disco, dobbiamo tenere il disco e fare le piccole cose, cioè non perdere dischi in uscita di zona, che così dopo loro partono in contropiede, o sulle nostre blu, lì magari è meglio buttare dietro il disco, giocare dietro di loro, che farci prendere in contropiede, però sono contento, meno male è arrivata la prima vittoria del 2023, continueremo così. Senti, ultima cosa, è mancata forse un po' di cattiveria, un po' di incisività sottoporta, era una partita che forse il Lugano per quanto ha fatto, per la mole di gioco che ha prodotto, avrebbe potuto chiuderla un po' prima. Sì, sicuramente, magari potevamo fare più gol, però alla fine l'importante è vincere, ci siamo riusciti, lavoreremo anche su quello e sono contento. Grazie mille, tanti auguri di buon anno. Grazie anche a voi.